La lite su Facebook e poi l'omicidio sarebbe stato un diverbio tra familiari a innescare la rissa degenerata con l'uccisione del 43enne a Catino, preso il presunto responsabile. Lo statista che tutti rimpiangono 40 anni fa alla strage di Viafani in cui venne rapito Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana, ne parliamo nel nostro focus. No al parco a San Marcello, protesta dei residenti delle case popolari di San Pasquale e il Comune, pensa a un piano B. Pronti per l'atterraggio, il nostro live dal centro mobile di comando e controllo dell'aeronautica militare. Buonasera in diretta dalla redazione di Itale Bari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. In primo piano la cronaca, lo avete già sentito dai nostri titoli, un litigio annato su Facebook e degenerato poi con il conflitto fuoco e l'omicidio di Antonio Scaglioso, avvenuto a Catino, lo ricorderete, l'unico discorso, fermato e presunto responsabile del 32enne Antonio Ripoli. Sarebbe stato un gestaccio fatto durante una diretta Facebook, la scintilla che ha innescato la lita e tra familiari, degenerata poi con l'omicidio di Antonio Scaglioso, avvenuta a Bari il 12 marzo scorso nel quartiere Catino. Gli insulti tra le due sorelle, Angela e Pasqua Mari, la prima moglie della vittima, la seconda picchiata con una mazza da baseball, sarebbero nati durante una festa di compleanno. Nel litigio sarebbe intervenuto il marito di Angela Scaglioso, armato di pistola in difesa della sorella Pasqua. Invece altri familiari, compreso il genere 32enne Antonio Ripoli, anche lui armato di pistola. Tra i due sarebbe nato un conflitto a fuoco ad avere la peggio, il 43enne morto per le ferite riportate all'addome. Ricostruzione confermata anche dai rilevi della scientifica che sul luogo del delitto hanno trovato bossoli di due diversi calibri. Ripoli, dopo quattro giorni di latitanza, si è consegnato questa mattina agli uomini della questura di Bari, che gli hanno notificato un provvedimento di fermo per il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso, detenzione per porto abusivo di arma da fuoco. La polizia gli ha anche sequestrato una pistola calibro 9 con la matricola cancellata, probabilmente la stessa usata per l'omicidio. Alla sua identificazione si è giunti anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona del comune di Bari. Le indagini continuano per identificare le altre persone che avrebbero preso parte al litigio, divenuto poi una vera e propria rissa. E torniamo sulla protesta di ieri davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia. Serviranno 45 giorni per Bari e Foggia e 30 giorni per le altre province. Parliamo di assegni di cura e questa è la tempistica prospettata dalla Regione Puglia per sbloccare la situazione dei contributi destinati ai disabili gravissimi. La polemica non si placa dopo la protesta venuta ieri davanti alla Presidenza con Emiliano Ruggeri e Montanaro che hanno discusso a lungo con i manifestanti. Inaccettabili e offensive le accuse di strumentalizzare i malati arrivate dall'assessore al welfare scrive in una nota Mariangela Lamanna del comitato 16 novembre. Il comportamento inefficiente degli uffici regionali ha creato danni economici e psicologici ai nuclei familiari che assistono a un disabile gravissimo. Qualora gli impegni presi verranno ancora una volta disattesi, conclude la nota, non esiteremo a scendere di nuovo in strada. Intanto il comitato ha chiesto formalmente di rendere noti tutti i dati sulle richieste pervenute in Regione. 40 anni fa, il 16 marzo del 78, le Brigate Rosse apripirono il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, uccidendo 5 uomini della sua scorta in quella che divenne la famosa strage di Via Fani. A Bari lo si è ricordato, prima in Piazza Moro, presso il monumento dedicato allo statista e poi nella cappella dell'Ateneo con una cerimonia religiosa. Presente un suo amico e collega di partito di quei tempi, Giovanni Marinelli, che abbiamo intervistato. Sentite. Facciamo un passo indietro nel tempo, torniamo al giorno del rapimento. Lei ricorda quella giornata? Ricordo perfettamente, stavo in azienda, era le ore 9, appena seppi la notizia, chiesi un permesso in azienda e tornai subito in Piazza Moro, al settimo piano, Piazza Moro 22, prendo una bandiera, andai subito per la strada perché seppi che c'era un cortegno della zona industriale con il lavoratore di CGL Cisleville, voglio assolutamente partecipare perché io ero democristiano nato insieme ad Aldo Moro. Moro era un presidente che è un cristiano vero, un uomo che ha dato l'ostro non solo alla Puglia ma a tutta Italia e ciò che ha detto Aldo Moro a suo tempo si sta verificando adesso che è una vergogna attualmente. Ho seguito questo cortegno per tutta la città di Bari, in via Dante all'angolo con Corso e Cabur pretendevano che io togliessi la bandiera, me l'ha messo addosso, me l'ha stilizzato sul corpo e disse che la bandiera non me la tolgo. Potete uccidermi, sono orgoglioso e fiero, per Moro sono disposto a tutti e spero che veramente Papa Francesco faccia un miracolo che va passando perché Moro è veramente l'uomo della democrazia, l'uomo della libertà, l'uomo della pace, l'uomo che non guardava il colore politico, amava tutti. Adesso veniamo alla commemorazione di Giuseppe Mizi ucciso per errore dalla mafia. Omicidi come quello di Giuseppe sono una sconfitta per tutti, solo i nostri figli possono far sì che questo mondo cambi e che si possa vivere in un mondo fatto di lavoro e non di sangue. Così Katia Mizi ha ricordato suo malito Giuseppe, vittima innocente di mafia a sette anni della sua uccisione avvenuta per errore a Carbonara. L'amministrazione comunale ha ricordato quel giorno con una cerimonia in Piazza Venezia, luogo del tragico avvenimento. Sabato 17 marzo alle 19, presso la cattedrale di San Sabino, alla presenza di Don Ciotti, si raccoglieranno 450 familiari provenienti da tutta Italia per la preparazione della marcia nazionale del 21 marzo. La cronaca giudiziaria danni per oltre 100 mila euro per ciascun bimbo vittima di maltrattamenti da parte di una maestra sono stati accertati dal Tribunale Civile di Bari. La vicenda riguarda i maltrattamenti che sarebbero stati subiti da quattro bambini, fra cui due gemelli di quattro anni vittime nel 2013 dei maltrattamenti della loro maestra, la 47enne Mariangela Tuputi all'interno della scuola materna De Nicola di Barletta. La docente fu arrestata il 27 maggio del 2013 per maltrattamenti aggravati e sette mesi dopo patteggiò dinanzi al Tribunale di Trani un anno e sei mesi col beneficio di sospensione della pena. Due anni più tardi le tre famiglie di quattro bambini hanno avviato un procedimento civile. La consulenza medico-legale disposta dal Tribunale ha accertato danni biologici di natura psichica quantificando dall'11 al 25% i disturbi post-traumatici da stress. Lo rende noto l'avvocato Antonio Moretti dell'associazione La Via dei Colori che assiste le famiglie. Cambiamo decisamente argomento. Doveva essere un semplice sopralluogo, si è trasformato in un momento di protesta e i residenti delle palazzine popolari di San Pasquale si ribellano alla costruzione del parchetto previsto nell'ambito del PIRP di San Marcello e l'amministrazione comunale prende in considerazione l'idea di una diversa collocazione. Sentiamo. Tu non sai il quartiere come è convolto qua. Non è così che funziona. Se è vero che la sovranità è del popolo, noi diciamo che qui, quel campetto, non lo vogliamo. Non le mandano a dire i residenti delle palazzine popolari di San Pasquale che vedendo il sindaco Antonio De Caro in giro tra gli edifici si riversano per strada per urlare il loro malcontento. Doveva essere un semplice sopralluogo, si è trasformato invece in un duro confronto con i residenti della zona che il parchetto previsto alle spalle della chiesa di San Marcello nell'ambito dei lavori del PIRP proprio non lo vogliono e per una serie di ragioni. Prima tra tutte l'eliminazione di un centinaio di parcheggi in una zona già congestionata dal traffico. Non da meno poi gli schiamazzi che già oggi i ragazzi producono a qualsiasi ora del giorno e della notte tra le palazzine, figuriamoci, con un'area verde a disposizione. Insomma, parchi e giardini non sono sempre la panacea di tutti i mali per i baresi e per una volta i cittadini hanno la meglio o perlomeno riescono a far vacillare le certezze comunali. Valuteremo la possibilità di localizzare il parco in un'altra area, la posizione dell'amministrazione subito dopo il sopralluogo divenuto momento di protesta. Diciamo quelli più adulti non vogliono il campo, i ragazzini invece quel campo lo aspettano dal 2006 da quando è stato approvato il progetto. Adesso stiamo venendo con i tecnici del comune e dell'azienda. Se è possibile fare una piccola modifica e cercare di accontentare tutti, lo valuteremo in queste ore, altrimenti il campo sarà realizzato dove è stato previsto qualche anno fa. E siamo alla questione stadio, procedura poco trasparente e completamente sbilanciata in favore della FC Bari 1908. Le opposizioni a Palazzo di Città tornano sulla monotematica di ieri pomeriggio, sullo stadio San Nicola e sull'annullamento della gara per la sua gestione quinquennale. Sentiamo. Secondo me ci sono gli estremi perché la procura verifichi che sta succedendo su questa questione della gara per la gestione dello stadio. È inaccettabile che a due giorni dalla conclusione di una gara un dirigente la sospenda ed è soprattutto inaccettabile che la maggioranza di centrosista che ha voluto da anni questa gara a un certo punto gli rivieni in aula e ci dice no, la gara va revocata, ci sediamo a parlare con la FC Bari. L'annullamento della gara per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola, passato ieri grazie alla mozione firmata centrosinistra, non va giù ai consiglieri di opposizione che raffigurano nella variazione della procedura non solo a un modo usuperandi poco trasparente, ma addirittura agli estremi per l'apertura di un fascicolo in procura. Non usa giri di parole il capogruppo di impagno civile Giuseppe Carrieri, che mette a confronto la mozione da loro presentata con quella della maggioranza. Un modo di fare inspiegabile, continua Carrieri, un chiaro atteggiamento pro società sportiva. E se non ci fossimo stati noi, continua il consigliere Michele Caradonna, neanche se ne sarebbe parlato. Caso contrario, ieri non si sarebbe parlato dello stadio San Nicola. E questo mi preoccupa e lancia una serie di ombre su quella che è una proprietà di tutti i cittadini. Un rapporto poco chiaro che danneggia il Bari e danneggia l'amministrazione comunale, che dovrebbe, come dire, ottemperare alla soddisfazione dei bisogni collettivi secondo principi di legalità. I consiglieri chiedono ancora una volta che nella proroga della concessione alla FC Bari venga almeno inserito un canone annuo di fitto e il pagamento della Tari. Altrimenti, concludono, presenteremo un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Parliamo di sanità. Oggi all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, un meeting per parlare di avanguardia e infatti di terapie per il trattamento del carcinoma prostatico. Sentiamo. La terapia del carcinoma prostatico presenta una delle sfide più interessanti nell'ambito della urologia oncologica. Diverse sono le possibilità terapeutiche utilizzabili e numerosi sono gli snodi decisionali da affrontare nella storia clinica del paziente. C'è una grossa evoluzione nell'ambito della terapia del carcinoma prostatico, sia nell'ambito chirurgico, sia nell'ambito radioterapico, che nell'ambito proprio dell'oncologia medica, di trattamenti medici. Noi in questo momento abbiamo la possibilità di tracciare e di individuare un paziente ideale per una tipologia particolare di terapia. Abbiamo la possibilità di curare il paziente con trattamenti chirurgici importanti, di evitare la chirurgia a pazienti che presentano una malattia indolente, di trattarli con trattamenti alternativi alla chirurgia, per esempio con la radioterapia che oramai si è dimostrato che in alcuni casi, in casi selezionati, permette di ottenere un miglioramento della sopravvivenza e una sopravvivenza uguale a quella degli interventi chirurgici. I sintomi da tenere d'occhio, invece, insistono gli esperti, sono i disturbi della minzione. Prevenzione e cure tempestive salvano la vita. Bene, ci fermiamo. Breve pausa a pubblicitare, restate con noi. Tra poco commenteremo i principali fatti di questa giornata con il giornalista e scrittore Michele Cristallo. Tra poco. E' in assi di partenza per questo secondo spazio dedicato, come sempre, alla rassegna stampa. Oggi in compagnia di Michele Cristallo, giornalista e scrittore. Ciao Michele, benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, pronti per il decollo, dovremmo dire, perché questo è un po' il tema del nostro live. Le immagini suggestive ve le proponiamo in diretta con Barbara Cirillo, che si trova all'interno del reparto mobile di comando e di controllo dell'Aeronautica Militare. Allora, salutiamo subito Barbara. Barbara, buonasera. Buonasera e ben ritrovati. Un live davvero speciale, perché siamo nel reparto di comando e controllo, reparto mobile di comando e controllo. Sono insieme al comandante, il tenente con l'Eno Manuel Mancini. Innanzitutto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli interi spettatori. È un piacere per noi aver aperto le porte ai cittadini di Bari per far conoscere la nostra realtà. Una realtà che vedremo e toccheremo con mano proprio tra qualche minuto. Però iniziamo a parlarne, no? Per spiegare che cos'è, di che cosa si occupa il reparto in questione. Il nostro reparto è una capacità di micchia dell'Aeronautica Militare. Noi siamo una capacità mobile di comando e controllo. Assicuriamo al Paese la difesa dai cieli e lo facciamo con dei sistemi mobili che possono essere rischierati in tutto il territorio italiano e anche all'estero. Questo consente a chi, all'Italia, di poter assicurare la sicurezza sui cieli del nostro Paese, sui cieli dei Paesi, della nostra alleanza e delle eventuali coalizioni. Ecco, sendo un reparto mobile, lo dice il termine stesso, nel senso che avete la capacità di girare, di spostarvi. Avete partecipato con le vostre unità anche ad eventi importanti? No, certamente. Questo è il nostro segno distintivo, quello di muoverci e partecipare a eventi importanti ovunque venga richiesto, sia in Italia che all'estero. Recentemente abbiamo fatto il G7 a Taormina, in passato anche il G8 dell'Aquila, il G7 di Genova. Abbiamo fatto anche delle recenti attività esercitative nel Barese, proprio con la Prefettura, esercitazione di protezione civile, la Tiflis, l'anno scorso ad aprile. Questo a dimostrare che la nostra capacità non è una sola capacità aeronautica, ma è una capacità in grado di operare e interagire con tutte le altre forze dell'esercito, della Marina, dei Carabinieri, anche con le forze dell'ordine e le forze locali. Anche il Cero ha le sue regole, insomma c'è qualcuno che però non le rispetta? Beh, lì i trasgressori ci stanno sempre, quindi il nostro compito è proprio quello di vigilare sui nostri cieli, assicurare che tutti rispettino le varie regole e siamo pronti ad intervenire quando c'è qualcuno che purtroppo fa qualche infrazione. E allora, spostiamoci proprio nella sala operativa, mi corregga se sbaglio qualche termine, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie Barbara, che troveremo tra poco. Beh Michele, utilizzando una metafora potremmo dire che invece nella politica ci sono molte, molte turbulenze. Adesso si cerca di definire l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, sembra essere andata in porto l'ipotesi di attribuire la presidenza della Camera ai 5 Stelle, e c'è di fatto che si registra ancora una volta la frizione tra Lega e Berlusconi. Beh, la politica avrebbe bisogno di un controllo, di una guida sicura, di una vigilanza come quella che assicura l'aeronautica militare. Siamo ancora in un clima di incertezza, eravamo in un clima di incertezza prima del voto, lo siamo ancora adesso, ancora di più dopo il voto, perché non sappiamo ancora quali saranno le soluzioni che saranno adottate per dare un governo al Paese. È in atto un dialogo tra Movimento 5 Stelle e la Lega, ma già cominciano a manifestarsi all'interno del centro-destra alcune posizioni di dissenzienti. Non fa piacere questo dialogo certamente a Forza Italia, ma anche nello stesso centro-sinistra, nel Partito Democratico per esempio, non è completamente allineato solo no al sostegno al Movimento 5 Stelle. C'è una gran parte del Partito Democratico che pensa ad una soluzione di questo tipo, ad un sostegno esterno, proprio per non lasciare ai partiti che hanno vinto tutto il futuro, il destino del Paese. Insomma, c'è una buona parte del Partito Democratico che vuole essere protagonista anche di questa fase politica. Io penso a Franceschini che pensava e ha già dichiarato nei giorni scorsi all'ipotesi di un governo costituzionale cosiddetto. Penso anche allo stesso Orlando, allo stesso Calenda che all'inizio è stato drastico nel dire no al Partito Democratico, ma adesso comincia ad addolcire la posizione. Penso anche a Nicola Zingaretti che se dovesse essere l'uomo destinato a guidare il Partito Democratico nell'immediato futuro, quando ci sarà il congresso, Zingaretti è favorevole, guarda con simpatia all'ipotesi di un sostegno con i Partiti Democratici. Quindi è una situazione tutta in movimento, in evoluzione, il clima di incertezza e la certezza del momento. Tutto questo però riflette situazioni di precarietà nella gestione dei rapporti tra maggioranza e minoranza e delle altre forze politiche a livello istituzionale e locale. Penso al Comune, penso alla Regione dove ci sono situazioni in fermento, dove ci sono anche manifestazioni di malessere che potrebbero sfociare in situazioni diverse da quelle attuali. Staremo a vedere, c'è di fatto che c'è un travaglio all'interno del Partito Democratico per queste nuove mosse che si stanno pensando per il futuro anche dei democratici, ma in qualche modo la protesta di ieri dei disabili gravi, dei loro familiari, ha riportato alla realtà il Presidente Emiliano. Non che la politica non sia una cosa seria, però ci sono indubbiamente delle emergenze a cui bisogna far fronte, anche perché è il Governatore della Puglia e ieri è andata in scena, non è una bella pagina, perché pensiamo ai disabili gravi che aspettano da otto mesi un assegno, hanno dovuto manifestare per poter far sentire le loro ragioni. Adesso è arrivata la rassicurazione, l'impegno a pagare questi assegni entro 30 o 45 giorni a seconda dell'Asa da cui verrà fatta richiesta, ce lo auguriamo. L'episodio della protesta dei disabili gravi ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica regionale, non soltanto un problema che è un problema grave e che non è di oggi e che va affrontato con senso di responsabilità e di rispetto per queste persone che soffrono una situazione certamente non invidiabile, ma ha riportato alla luce anche il problema generale della gestione della sanità. C'è già chi dall'opposizione, ma non soltanto dall'opposizione, ma anche all'interno della stessa sinistra, ha manifestato l'esigenza che il settore della sanità sia retto da un assessore a tempo pieno. Quindi Emiliano continua a tenere la gestione del settore, però ripropone ancora una volta l'opposizione, ma ripeto, anche nello stesso mondo della sinistra, pensa al movimento democratico che ha partorito la lista libera ed uguale, la necessità che Emiliano cessi questa delega a una persona che possa occuparsi a tempo pieno. In effetti Emiliano in questi mesi è stato molto impegnato a livello nazionale per quanto riguarda sia la gestione del Partito Democratico sia per quanto riguarda la campagna elettorale e sarà ancora impegnato nei prossimi giorni e forse nei prossimi mesi nella preparazione dell'Assemblea e poi del Congresso del Partito Democratico, quindi avrà poco tempo per pensare ai problemi che sono gravi e che sono impellenti della sanità e forse l'invito a nominare un assessore è del tutto legittimo e probabilmente anche auspicabile. Staremo a vedere perché per la sera in Italia siamo sempre in campagna elettorale e non ci smentiamo neanche questa volta perché c'è chi sta già lavorando per l'amministrativa e poi per i regionali. Vedremo, intanto restiamo in tema di politica perché oggi ricorrono i 40 anni della strage di Viafani, più che politica diciamo che è stato il momento più brutto, più buio della democrazia, possiamo definirlo così. Di politica perché? Perché Aldomoro veniva rapito ed è ancora lo statista che tutti rimpiangono, perché quando pensiamo la politica con la più maiuscola pensiamo. Un anniversario molto triste come tutti gli altri anniversari che ci hanno preceduti, sono un po' 40 anni dalla strage di Viafani, non sappiamo ancora tutto su quello che è accaduto in quelle giornate, nei 55 giorni di prigionia e poi l'assassinio dell'onorevole Moro. Sappiamo soltanto con certezza che Moro era stato condannato alla morte sin dai primi giorni, dalle prime ore del rapimento perché la cosiddetta strategia della fermezza aveva stabilito che Moro doveva morire e Moro è morto e è stato ucciso perché la politica si è rifiutata di trattare con i brigatisti, al limite paradossalmente possiamo anche affermare che probabilmente i brigatisti di fronte alla linea della fermezza sono stati quasi costretti ad assassinare Moro, ma ancora oggi non sappiamo ancora chi ha premuto il grilletto dei tre o quattro che sono i sospetti assassini, non sappiamo nemmeno chi ha bregato alle spalle delle brigate rosse, la brigate rosse molto probabilmente come ha accertato molta parte della inchiesta della commissione Moro, della commissione parlamentare presenuta dal senatore Fioroni, c'è stata una regia esterna anche alle brigate rosse sia prima sia dopo il rapimento e quindi anche durante i 55 giorni della prigionia ci sono molti elementi che sono emersi, molto perplessità che sono emersi e anche che chiamano in causa anche personaggi autorevoli della politica italiana, non soltanto, ma anche personaggi autorevoli della politica degli Stati Uniti e probabilmente anche dell'allora Unione Sovietica. Ci sono testimonianze che inducono a riflessioni e particolarmente amare su quello che è stato il ruolo di responsabili anche di ministeriali importanti della politica italiana. C'è stato soltanto un tentativo da parte di alcuni personaggi politici di ingaggiare la trattativa, ma ormai era deciso, era ferma la posizione dei sostenitori della linea della fermezza e questa non soltanto nella DC ma anche nel loro partito comunista e quindi in parte del partito socialista, insomma c'è stato tutto il sistema politico che ha rinunciato alla trattativa, l'alibi era quello di un cedimento, ma in ballo era la vita di un uomo, non soltanto, la vita di uno statista e quindi è stato veramente un, come molti scrittori hanno scritto nei tanti libri pubblicati, è stato un delitto di Stato. Allora torniamo nel reparto mobile di Comando e Controllo dell'Aeronautica Militare per le immagini suggestive dalla sala operativa. Barbara torno da te. Ed eccoci nella sala operativa. Comandante, in questa schermata possiamo vedere sostanzialmente quello che è il traffico attuale. Sì, è una parte del traffico aereo attuale, noi siamo collegati ad alcuni radar dislocati sul territorio italiano e questi ci danno la possibilità di detezionare tutti gli aerei che stanno volando sul nostro spazio aereo e controllare che proprio tutti rispettino le regole del volo e le autorizzazioni previste per entrare nei nostri cieli. Al momento è tutto tranquillo. Sì, al momento è tutto tranquillo. Abbiamo però per l'occasione preparato una simulazione dove vi faremo vedere cosa si fa quando c'è un trasgressore delle regole del volo. Allora, lo vediamo tra pochissimo, comandante, perché raggiungiamo invece chi ci spiegherà come sostanzialmente funziona la sala operativa e soprattutto ci mostrerà quella che è stata l'operazione effettuata durante il G7 di Taormina, perché lo ricordiamo il reparto mobile di comando e di controllo, io mi sposto, ovviamente ha partecipato ad operazioni importanti come quella dei mesi scorsi. Innanzitutto, buonasera. Buonasera, Barbara. Buonasera, telespettatori. Allora, come funziona sostanzialmente questa sala operativa? Allora, la sala operativa, parlando appunto del G7 che prima ha menzionato il comandante, ci ha visti rischierati su Taormina e dovevamo assicolare una no-fly zone sullo spazio aereo sovrastante Taormina per appunto evitare che ci potessero essere appunto degli aerei che entrassero in questa area che doveva essere assolutamente libera da velivoli e soprattutto non autorizzati. Nella fattispecie questa sala operativa funziona ed è organizzata organizzata su due sezioni, una sezione sorveglianza e una sezione armi. La sezione sorveglianza sostanzialmente, guardando il monitor, è quella che identifica tutte le tracere che sono presenti in volo e qualora ci sia qualche velivolo che non rispetta i piani di volo, non risponde alla radio o in qualunque altra circostanza, vengono allertate alla catena di comando e controllo che prenderà la decisione di far intervenire degli intercettori, ad esempio quelli che sono su Gioia del Colle, praticamente autorizzando quello che viene chiamato uno scramble, che è una procedura particolare in questi tipi di situazioni. Da questo momento la seconda sezione, che è quella sezione delle armi, guiderà gli intercettori fino al velivolo interessato per riconoscerlo e quindi applicare le procedure previste per farlo atterrare o comunque rimetterlo in rotta e riportare tutta la situazione in sicurezza. Questo è quello che è stato fatto a Torbina, intanto vediamo tantissimi uomini all'opera, tante schermate diverse. Schermi e tanti uomini, come dicevo prima, sono due sezioni che operano e all'interno di questa sala vengono convogliati tutti i sensori che servono per esercitare le funzioni di difesa aerea. Abbiamo necessità di avere dei radar che appunto avvistano i velivoli e li identificano, quindi si vengono identificati e tutta la parte radio e anche la parte satellitare che ci permette di dialogare con gli aerei appunto per capirne l'identità e anche guidare gli intercettori verso gli aerei non identificati che hanno bisogno di essere appunto identificati nel dettaglio. E allora grazie, grazie mille per questa spiegazione, ovviamente la lascio al suo lavoro. Grazie mille. A tra poco. Allora ci sentiamo più sicuri di quello che avviene nei cieli, no? Che non sono la nostra portata. Viaggio di custodia del nostro cielo. Eh sì. Allora siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare Michele Cristallo, giornalista e scrittore. Grazie Michele per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, troviamo tra poco con altre notizie. Restate con noi. La lite su Facebook, poi l'omicidio, sarebbe stato un diverbio tra familiari a innescare la rissa degenerata con l'uccisione del 43enne a Catino, preso il presunto responsabile. Lo statista che tutti rimpiangono 40 anni fa alla strage di Viafani in cui venne rapito Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana. Ne parliamo nel nostro focus. No al parco a San Marcello, protesta dei residenti delle case popolari di San Pasquale e il Comune e pensa a un piano B. Pronti per l'atterraggio, il nostro live dal centro mobile di comando e controllo dell'aeronautica militare. Eccoci ancora qui per la terza parte del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca. Un litigio nato su Facebook è degenerato, poi con il conflitto a fuoco e l'omicidio di Antonio Scaglioso avvenuto a Catino. Lui è discorso, fermato il presunto responsabile, il 32enne Antonio Ripoli. Sarebbe stato un gestaccio fatto durante una diretta Facebook la scintilla che ha innescato la lita tra familiari degenerata poi con l'omicidio di Antonio Scaglioso avvenuta a Bari il 12 marzo scorso nel quartiere a Catino. Gli insulti tra le due sorelle, Angela e Pasqua Mari, la prima moglie della vittima, la seconda picchiata con una mazza da baseball, sarebbero nati durante una festa di compleanno. Nel litigio sarebbe intervenuto il marito di Angela Scaglioso, armato di pistola in difesa della sorella Pasqua, invece altri familiari, compreso il genere 32enne Antonio Ripoli, anche lui armato di pistola. Tra i due sarebbe nato un conflitto a fuoco, ad avere la peggio il 43enne morto per le ferite riportate all'addome. Ricostruzione confermata anche dai rilevi della scientifica che sul luogo del delitto hanno trovato bossoli di due diversi calibri. Ripoli, dopo quattro giorni di latitanza, si è consegnato questa mattina agli uomini della questura di Bari che gli hanno notificato un provvedimento di fermo per il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso, detenzione per porto abusivo di arma da fuoco. La polizia gli ha anche sequestrato una pistola calibro 9 con la matricola cancellata, probabilmente la stessa usata per l'omicidio. Alla sua identificazione si è giunti anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona del comune di Bari. Le indagini continuano per identificare le altre persone che avrebbero preso parte al litigio, divenuto poi una vera e propria rissa. Adesso vi raccontiamo una storia di solidarietà a domicilio. La brava gente non esiste, non è assolutamente vero e noi ne abbiamo le prove. A rendere pubblico il gesto di solidarietà di un ragazzo barese sono i titolari della pizzeria Break 184 di Invia Calefati. Ieri sera, grazie alla sua iniziativa, alcuni senza tetto della stazione di Bari hanno ricevuto a domicilio ben 10 piadine. Sono un giovane ragazzo 25enne, si legge tra le note dell'ordine effettuato alla pizzeria tramite Just Eat. Stasera ho ordinato una pizza e non potendo essere fisicamente con voi per condividerla, ho deciso di mandarvi qualcosa di caldo, forza e coraggio. 10 piadine quindi, ovviamente già pagate e destinate ai clochard della stazione di Bari centrale o ai senza tetto di Bari. Chiunque tu sia, scrivono dalla pizzeria, massima stima per te e il tuo gesto di grande valore. Ci hai ricordato che oltre a tutto il marcio a cui ci siamo abituati intorno a noi esiste ancora. Tanta bellezza d'animo. Un master per contrastare l'eco-mafia e gli ecoreati, oggi la giornata conclusiva nell'auditorium della legione allievi della Guardia di Finanza di Bari. Sentiamo. Si è tenuto questo pomeriggio l'appuntamento conclusivo dello short master tutela dell'ambiente e contrasto a eco-mafia ed ecoreati. Il master è stato il frutto di una specifica collaborazione tra l'Università degli Studi Aldomoro di Bari e la Legione Allievi, un'iniziativa di formazione e preparazione ad alto contenuto specializzante in grado di offrire prospettive interessanti per lo sviluppo professionale di coloro che intendono avvicinarsi dal punto di vista tecnico e giuridico alla cultura ambientale. Sono oltre 25.000 i casi di contestazione di leciti in materia ambientale. Il master si è sviluppato lungo un percorso di studi che ha visto presenze tecnico-giuridiche con la magistratura, con le forze dell'ordine e con l'Università di Bari. Dal punto di vista dei risultati devo esprimere viva soddisfazione perché la partecipazione è stata molto ampia, oltre 100 iscritti, ma soprattutto anche presenze anche particolarmente qualificate nell'uditorio oltre che tra i relatori. La mobilitazione di potenti mezzi e risorse umane fortemente professionalizzate nei diversi comparti della sicurezza, della ricerca e dell'amministrazione consente quotidianamente di ottenere risultati significativi sia sul piano numerico che su quello qualitativo, concorrendo alla prevenzione, alla scoperta degli leciti e al perseguimento di obiettivi di contrasto ai pericoli per la salute umana e per l'ambiente. Ecoreato ecomafia è la frontiera operativa, è la frontiera dell'attività di contrasto che tutte le forze di polizia e guardi finanze in testa svolge nell'ambito del contesto regionale, ultra regionale e transnazionale, perché i nostri porti sono aggrediti, merci in uscita, in entrata, una preda molto ricca su cui le organizzazioni criminali non esitano a lanciarsi. Ultimo collegamento del nostro live in diretta dal reparto mobile di controllo dell'aeronautica militare. Allora Barbara torno da te. E allora, come promesso, insieme al comandante vi mostriamo una simulazione. Cosa stiamo andando a vedere? Stiamo simulando che un aereo civile non era autorizzato a entrare nel nostro spazio aereo. Allora, come previsto da procedure, è stato ordinato il decollo a degli aeroplani in allarme dalla base di Gioia del Colle e con il nostro operatore, che vi spiegherà poi nel dettaglio cosa stiamo andando a fare e quali sono le varie fasi della missione, stiamo cercando di identificare in volo questo aereo per capire le sue intenzioni e intraprendere eventuali interventi per allontanarlo dai nostri cieli. Quindi una volta che i due aerei intercettano l'altro, il terzo aereo, che cosa accade? Allora, innanzitutto la prima fase c'è una fase di avvicinamento dove i nostri intercettori vengono guidati dal nostro operatore tramite informazioni via radio e una volta che si sono avvicinati i due intercettori fanno una ricognizione visiva per passare i dati dell'aeroplano e cercare di capire effettivamente la natura di questo volo e se ha dei problemi tecnici a bordo che non gli hanno consentito di rispettare il normale piano di volo o le normali regole. Una volta che abbiamo acquisito tutti questi elementi, vengono prese le eventuali decisioni che possono essere da quello di lasciar passare l'aeroplano o da quello di scortare l'aeroplano o addirittura se l'aereo non ha intenzioni amiche di forzarne l'atterraggio o di scortarlo fuori dal nostro spazio aereo. Insomma, possiamo dire che siete in continuo e costante contatto con il resto del mondo? Sì, sicuramente sì e questo è una delle caratteristiche del nostro mondo soprattutto perché possiamo operare anche con aeroplani di altri paesi perché facendo parte di un'alleanza i nostri confini si estendono oltre a quello che è il nostro spazio aereo. Comandante, insomma ci avete davvero mostrato delle immagini anche inedite ai più so che lavorate anche molto con le scuole, insomma questo è un vero e proprio gioiello che poi mostrate anche alle autorità che di volta in volta vengono qui a farvi visita. Sì, sì, è un vero e proprio gioiello come ho detto all'inizio è una capacità unica, unica dell'aeronautica che detiene questo assetto come una vera e propria bomboniera perché è quello che dà la possibilità di incrementare il proprio raggio d'azione sia sul territorio che fuori proprio per avere una maggiore sicurezza dei nostri cieli. E allora non mi resta che augurare buon lavoro a tutto il reparto mobile di comando e controllo grazie al comandante tenente colonnello Manuel Mancini per averci aperto le porte. No, grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori per noi è sempre un piacere avervi qui e è un piacere lavorare in questa terra. E allora da qui è davvero tutto, una buona serata a voi in studio. Grazie Barbara, grazie ai tuoi ospiti. Restiamo in tema perché un aereo di EasyJet partito in ritardo ha determinato il rimborso per i passeggeri. L'ha stabilito il giudice di pace di Bari che ha condannato la compagnia EasyJet a un indenizzo di 250 euro in favore del passeggero accogliendo il ricorso presentato dai legali di rimborsovoli.it, portale dedicato alla tutela gratuita dei viaggiatori. L'uomo, originario di Trani, aveva prenotato un volo Milano-Malpensa-Bari per il giorno 4 aprile del 2014 alle 7.10, poi decollato alle 11.21. Aveva deciso di rinunciare alla prenotazione prendendo un altro volo dall'aeroporto di Genova. E siamo alla nostra rubrica di arte e cultura. Oggi parliamo dell'artista Luigi Loquarto. Isabella Cedro. È in corso, presso la Galleria Museo Nuova Era di Bari, la mostra Geometria Organica, una personale della più recente produzione artistica di Luigi Loquarto. Artista visivo, vive e lavora a Trani e spazia dai wall paintings alla pittura su tela, dal disegno alla scultura, con richiami alla natura e al paesaggio pugliese. Tra il 2009 e il 2017 realizza esposizioni personali e collettive e diversi progetti di arte urbana. Partendo dall'osservazione della dimensione naturale, caricata di rimandi biografici, Loquarto definisce la natura attraverso la geometria, con forme che si intrecciano, si espandono e si accumulano nello spazio potenzialmente infinito di un foglio, dove il bianco e il nero interagiscono, creando nuovi equilibri spaziali. Nella sua rielaborazione grafica, l'artista rivede tutto il suo mondo, l'amore per la terra e il mare, ridisegnando l'estensione dei muretti a secco e degli scogli per dar vita a inediti territori grafici, che vengono trasposti su fogli e rotoli di carta, in una ricreazione visiva della realtà, della sua profonda e autentica essenza. In questa ricerca anche gli uccelli si trasformano, tramite un processo di ramificazione che genera nuove forme di vita in una fusione inedita tra regno animale e vegetale. Sabato, 17 marzo, avrà luogo presso il Museo Nuova Era il Finissage alla presenza dell'artista Luigi Loquarto e del curatore Nicola Zito. Al Teatro Petruzzelli, un simulatore multimediale per la direzione d'orchestra, presentato concerto, uno strumento per avvicinare i ragazzi di Bari al teatro e alla musica classica. Guardate. La bacchetta che si muove a ritmo, l'orchestra che, seguendo il movimento della mano, esegue il brano secondo le indicazioni impartite. Storia di una giornata come tante al Teatro Petruzzelli di Bari. Se non fosse che trasformarsi in direttori d'orchestra, questa volta sono i ragazzi. Grazie a concerto, il simulatore multimediale realizzato da developing.it per la fondazione Petruzzelli in collaborazione con l'assessorato alle culture del comune di Bari. È possibile dirigere l'orchestra del Teatro Petruzzelli all'interno di un video e la piattaforma, leggendo il ritmo tramite le battute realizzate con il braccio dal giocatore, trasforma in ritmo e di conseguenza permette di rallentare o accelerare l'esecuzione del brano. Così come funzionerebbe nel caso di un vero direttore d'orchestra. L'obiettivo che ci si pone è quello di avvicinare i ragazzi di tutti i quartieri della città al teatro e alla musica classica. Un percorso, peraltro, già avviato se si considera che nel 2017 sono stati 25.000 i biglietti staccati per i più piccoli e solo nei mesi di gennaio e febbraio 2018 sono già 4.850 le presenze di ragazzi registrate. Un bel segnale di ripresa spiega il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi per una città chiamata a ricucire il suo rapporto con la cultura. Il simulatore del direttore d'orchestra, concerto come lo chiamiamo noi, può essere un ulteriore strumento per avvicinare i giovanissimi, i giovani bambini all'arte della musica classica che non è un'arte per tutti è un'arte che viene scelta c'è una sorta di chiamata stiamo recuperando con una programmazione ricchissima una programmazione che soprattutto per la musica concertistica tutta l'Europa ci sta invidiando e il pubblico sta rispondendo molto positivamente ha capito che la Vienna musicale oggi in Italia è Bari Pensiamo allo sport parliamo di Cittadella Bari la prova del 9 di Fabio Grosso alla vigilia della trasferta il mister Biancorosso parla in conferenza stampa vediamo a che livello siamo arrivati e spende una parola per Christian Galano sentiamo conosciamo le insidie ma sapendo quelle che sono le nostre qualità andiamo per fare la partita piena per provare a ottenere il massimo sapendo quali sono le caratteristiche che servono per ottenere il massimo Sì, domani è una partita importante perché affrontiamo una scuola che ci precede in classifica e anche se non sembra non ce ne sono tante per il momento questa è una di quelle e quindi noi vogliamo fare la partita per dimostrare a noi stessi a che livello siamo arrivati conosciamo le insidie della gara ci siamo detti più di una volta che non esistono partite facili altrettanto non esistono partite impossibili noi sappiamo che abbiamo le qualità per andare a giocare e voglio la squadra con una mentalità propositiva e offensiva che voglia dall'inizio alla fine cercare di portare a casa il massimo di quello che si può portare nel periodo in cui stavamo abbiamo inanellato una serie di vittorie vi siete tanto soffermati a parlare sulla posizione di questo giocatore sicuramente è un giocatore che ha dimostrato credo nella sua carriera di avere enormi qualità tecniche ma di avere un margine enorme di crescita a livello psicologico e mettergli tanti dubbi e tante pressioni sotto certi punti di vista credo non l'abbiano aiutato però io sono convinto che è un giocatore che ci ha dato una grandissima mano e continuerà a darcela a partire dalla partita di domani anche se è uno tra quei giocatori che in questi giorni non è stato benissimo l'abbiamo ritrovato solamente oggi per la rifinitura perché aveva ricevuto una botta domenica e non si è potuto allenare bene ci fermiamo breve pausa pubblicitaria restate con noi tra poco nel quarantesimo anniversario della strage di Viafani e ricorderemo la figura di Aldo Moro a tra poco amici tra i bimeteo bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vede ancora maltempo in molte zone dell'Italia per la presenza di una zona di bassa pressione posizionata proprio sulle nostre regioni centro-settentrionali e così la nuvolosità sarà estesa un po' tutto il paese ma soprattutto al centro-nord al sud non mancheranno anche delle schiarite soprattutto sulle isole maggiori in effetti al sud anche le precipitazioni saranno molto contenute vediamo le piogge previste che insistano soprattutto nell'Italia centro-settentronale con anche delle nevicate sull'arco alpino a quote medie il sud invece solo di tanto in tanto vedrà passare qualche breve piovasco quindi in definitiva giornata di maltempo al centro-nord piogge diffuse neve diciamo in montagna anche temperature relativamente contenute al centro-nord spesso non oltre i 9-10 gradi invece al sud tempo più variabile con anche qualche schiarita e al sud temperature anche molto miti Sicilia e Puglia potrebbero superare i 20 gradi con questo è tutto per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com grazie a tutti 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 40 anni fa la strage di Via Fani uno dei momenti più bui della Repubblica Italiana allora vogliamo ricordare l'occasione insomma per ricordare la figura di Aldo Moro che fu ovviamente rapito dalle BR proprio in quella giornata e ci colleghiamo quindi con Luigi Ferlicchia con il professor Luigi Ferlicchia del centro studi Aldo Moro non so se siamo già collegati telefonicamente con lui professore buonasera buonasera allora dicevamo abbiamo titolato lo statista che tutti rimpiangono ecco a 40 anni da quel anniversario quel momento buio della democrazia come possiamo raccontare la figura di Aldo Moro ai giovani di oggi? beh c'è una frase che dice tutto c'è Moro quando parlava di Bari la definiva la città del ritorno la città del ritorno per tutti era il tornare in continuazione qui da noi dopo le incombente e diciamo l'impegno lì a Roma e quindi Moro ritornava qui agilmente facilmente umanamente si sentiva attratto da questa città e quindi la chiamava la città del ritorno lui quando veniva a Bari praticamente dimenticava tutte le problematiche di tensione su Roma e si sentiva a casa sua tra amici si sentiva una dimensione umana tutta propria ecco professore era l'uomo dei grandi ideali era l'uomo che avvertiva la politica come vocazione possiamo dire ben lontana dalla politica di oggi o no? beh questo indubbiamente perché Moro era il politico che era legato ai valori autentici della democrazia cristiana nell'impegno politico lui investiva sempre al centro di ogni iniziativa la persona la persona umana era il punto di riferimento di ogni iniziativa politica ogni legge di ogni programma di ogni attività e in questo senso e in questo senso la persona veniva salvaguardata nei suoi valori nei suoi interessi nelle sue cose professore Ferlicchia tutto quel passato merita di essere rimpianto oggi? tutto? tutto quel passato merita di essere rimpianto oggi? certo certo perché oggi non c'è più il legame tra classe politica e cittadino i cittadini sono abbandonati a se stesse anche la licenza elettorale di queste elezioni è rapportata a una mancanza di collegamento autentico e serio tra la persona tra il cittadino e la classe politica quando si allenta questo rapporto si allenta questo legame è evidente che arriviamo a una situazione incontrollabile indefinita degenerativa e via di tempo professor Ferlicchia siamo partiti un po' dal racconto del grande statista e i giovani e torniamo su questo tema perché erano anche gli anni della grande violenza della propaganda della violenza una propaganda alla violenza che ritroviamo oggi anche sui social quindi a pannaggio delle giovani generazioni è un esempio che i giovani possono capire oggi quali sono gli elementi di similitudine tra ieri e oggi ovviamente con sistemi diversi beh guardi io a vedere in questi giorni alcune tv vedersi in particolare la Sette che fa l'apologia dei brigatisti fa l'apologia di quattro brigatisti che vengono evidenziati quasi sono degli eroi e c'è di rimanere stupiti cioè l'esaltazione della violenza la legittimità di queste persone rispetto al fatto che sono stati dei veri autentici attattivi e come tale non c'è prospettiva e quindi non c'è un dato educativo io non riesco a capire questo modo di fare comunicazione questo modo di trasmettere il messaggio anche se poi nei giorni successivi c'è stata una correzione del tiro e c'è stata una correzione diciamo dell'impostazione ma la violenza deve essere sempre aburrita deve essere sempre messa lontana dalla dimensione politica dall'impegno mai con la violenza risolvere i problemi quando si ricorda la violenza non si è più nella dimensione democratica Professor Ferlicchi abbiamo davvero 30 secondi prima della chiusura erano gli anni in cui il sud aveva una vocazione profondamente europea con la morte di Aldo Moro il sud è rimasto orfano? Beh non è che è rimasto orfano è rimasta orfano la politica perché non si intravede ancora una dimensione a livello di politica non si intravede una persona che possa intraprendere quel messaggio quei valori e incarnare quella fede politica con l'impegno Perfetto siamo in chiusura non mi resta che ringraziare il professor Luigi Ferlicchia del centro studi Aldo Moro la prossima volta chiaramente verrà in studio per un impedimento non l'abbiamo detto non è riuscito a raggiungerci ma abbiamo recuperato in questo modo chiedo scusa la prossima volta mi impegno a venire mezz'ora prima sottoforme a tutte le domande possibili immaginabili non c'è nessun problema grazie al professor Luigi Ferlicchia per essere stato con noi e buona serata grazie a voi ovviamente per averci seguito l'appuntamento torna più tardi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti